importante. Grazie professore di essere venuto. Grazie, grazie sindaco. Le lascio le cartoline, buon fornato. Bellissimo, grazie sindaco. Oggi io sono qui perché mi hanno dato questo spazio, mi hanno dato questa possibilità per parlare del tema, del mito e del rischio zero e il sottotitolo che avevo dato e che inizia ancora, giustamente, che è libertà o sicurezza. Ed è un tema che mi sta molto a cuore perché ha toccato l'esistenza di tutti e riguarda anche da un punto di vista, diciamo così, non occasionale le cose di cui mi occupo. Di cosa mi occupo? Ve lo dico al volo per chi non mi conosce. Allora, io sono un filosofo e uno studioso di intelligenza artificiale, sono, infatti all'università insegno intelligenza artificiale, ma sono in realtà un filosofo e mi occupo in particolare di che cosa? Mi occupo della natura della mente umana, cioè sostanzialmente cerco di rispondere alla domanda, come tanti altri, che cosa siamo noi, che cosa è una persona? E vedremo come questa domanda è diventata non più soltanto teorica, ma è diventata una questione politica, una questione quotidiana nel momento in cui noi siamo stati toccati dalla disgrazia del Covid. Allora, intanto lasciatemi dire una cosa, perché probabilmente alcune delle cose che io dirò suoneranno abbastanza controverse per qualcuno di voi, quindi tenete conto che io sono un filosofo, quindi i filosofi dicono sempre cose che vanno contro il buonsenso comune, se no non farebbero i filosofi. Allora, prima di tutto però vorrei dire quello che io non dico, perché sia chiaro fin dall'inizio, allora io non dico che il virus non esiste, non sono un negazionista, non sono un complottista, non penso che il virus sia stato messo in circolazione da Soros o da chi altro. E non penso assolutamente che non fosse necessario prendere misure sanitarie e di altro tipo per frenare la diffusione del virus ed evitare il collasso delle strutture sanitarie nel momento in cui c'è stata l'emergenza. Quindi tutte queste cose io non le dico. Sono assolutamente, come ogni persona di buonsenso, convinto che il virus sia qualcosa di estremamente pericoloso di fronte al quale noi dobbiamo mettere in atto tutti gli strumenti per difenderci da questo pericolo biologico. Detto questo però, da filosofo e da persona che studia la natura della mente e la natura della persona, da filosofo che si interroga che cosa sono io, sono costretto a fermarmi un attimo e ricordare a tutti che non esiste soltanto il pericolo sanitario, che la persona non si riduce solo ed esclusivamente all'aspetto biologico, che la persona non è soltanto un corpo. E questo credo che sia l'aggancio tra il tema di oggi, appunto il mito del rischio zero, su cui dirò qualcosa molto rapidamente, e le mie competenze. Cioè voi potete chiedere ma perché un filosofo della mente ci viene a parlare del Covid? Non ha delle altre cose di cui occuparsi che non come la società si affronta questa minaccia? E vedremo come in realtà in questo caso la mia particolare disciplina, la cosa che io studio, cioè la natura della persona, diventa non più un problema teorico, ma diventa qualche cosa che si traduce in conseguenze pratiche, nel modo in cui poi si gestisce una emergenza come quella del Covid. vi dicevo perché la persona non è soltanto un corpo. Beh, allora sicuramente il corpo è necessario, e questo vi ripeto, è una piccola parentesi che faccio all'inizio e poi rapidamente ci portiamo alla nostra situazione quotidiana, ma ve la faccio per farvi capire, diciamo così il punto di partenza del cui mi sono mosso. La persona, perché diciamo che non è il corpo? Beh, perché se noi guardiamo alla nostra vita, noi troviamo che la nostra vita non è la vita del corpo, la nostra vita è la vita che noi abbiamo grazie al corpo, tanto è vero che noi diciamo che noi abbiamo un corpo, noi abbiamo un cervello, abbiamo dei reni, abbiamo delle gambe che ci portano in giro, non siamo le gambe, non siamo il corpo, noi ingrassiamo, attenzione, vedete, il linguaggio ci tradisce, perché noi a volte diciamo io sono ingrassato per colpa della quarantena, che sono rimasto in casa e ho mangiato di più. No, il nostro corpo è ingrassato, Riccardo non è ingrassato, il suo corpo è ingrassato. E noi ci potremmo chiedere come mai, io qua vedo il mio dottore che mi ha curato tante volte, e spero di non scandalizzarlo, i medici devo dire che hanno contribuito un pochettino a convincerci tutti che noi siamo il nostro corpo. Perché? Perché i medici si occupano del corpo. E quindi i medici tendono a, diciamo così, enfatizzare la natura corporea della persona. Anche perché sembra non esserci un'alternativa. Anche perché nel momento in cui si è abbandonata la visione tradizionale della contrapposizione tra anima e corpo, tra mente immateriale e corpo, sembra che l'unica alternativa fisica sia quella di considerarci identici al nostro corpo. Allora questo ve lo accenno soltanto, ma non entro nel merito, però si può mettere in discussione. Cioè si può collocare la nostra esistenza nel mondo fisico, nella realtà, e dire che noi siamo tutto ciò che è la nostra vita, che non è necessariamente qualcosa di immateriale. Da questo punto di vista noi, e questo non entro nel merito, ma è la cosa di cui mi occupo, possiamo trovarci nella nostra esistenza. Noi possiamo essere tutt'uno con la nostra vita, che è qualcosa di concreto, perché è fatto delle persone che in questo momento sono davanti a noi, che è fatto dal municipio di Berceto, che è fatto dal mare da cui sono partito, e non è necessariamente il nostro corpo. Allora, questo per dire che questa riduzione degli esseri umani a corpi non è obbligata. Ecco, questa la lascio subito, poi entro nel concreto, ma voglio darvi questo messaggio. Non è obbligatorio ridurci a corpi. E allora, in maniera meno teorica, ma forse più, diciamo così, quotidiana, di che cosa è fatta la nostra vita? Di che cosa è fatta la vita degli esseri umani? La vita degli esseri umani è fatta, oltre che da tutte le cose che noi troviamo nella nostra vita, che non si riducono al corpo, è fatta, e qui arriviamo al punto della giornata, è fatta dai nostri valori. E questo è qualcosa che è sempre stata chiara a tutti, fino a qualche decennio fa, quando c'è stata questa riduzione dell'uomo alla corporeità. Di che cosa sono fatte le persone? Ulisse, da che cosa era fatta? Era fatto dal suo corpo? No. Ulisse era la sua capacità di essere pieno di risorse, era i suoi desideri, era le sue intenzioni, era il suo spirito libero. E qui torniamo al punto di oggi. La vita umana non è riducibile soltanto alla corporeità. La corporeità va vista come una condizione, perché l'essere umano possa esistere, possa in qualche maniera esistere nella sua essenza di persona. E che cos'è una persona umana? Una persona umana è una persona che può esistere in modo libero. E che cos'è la libertà? La libertà è la possibilità di esercitare la proprietà sulla propria esistenza. se io non ho il diritto di essere, di fare, di decidere, di autodeterminarmi, io non esisto. Non è solo che non sono libero. Io non esisto. Che ci sia o che non ci sia, è uguale. Questo, faccio il filosofo, è il principio eleatico, che non lo dice Platone, e sappiamo tutti che non era un grande amico della libertà, in realtà Platone, ma lo dice l'unico filosofo che nei dialoghi di Platone non viene mai nominato per nome. Tanto è vero che viene citato sempre come lo straniero di Elea. Quello che cioè rivendica che l'esistenza di ogni persona è la sua possibilità di esistere in modo libero. Allora, scusatemi questo pistolotto per farvi così, darvi un attimo le coordinate da cui io mi muovo. E però arrivare invece più al quotidiano. Io mi sono sentito obbligato a intervenire con, diciamo così, dal mio punto di vista filosofico, nel dibattito sulla gestione delle misure del Covid, sul modo in cui veniva implementata la quarantena. Io ero in un comune, io vivo a Lavagna durante l'inverno, quindi durante la quarantena io ho, diciamo così, interagito con i comuni liguri, quindi non parlo per i comuni della Valtaro. Però a un certo punto io ho avuto l'impressione, e io ho ancora questa impressione, su questo entro nel merito, fra poco, che in conseguenza del virus ci fosse meno libertà. Io a un certo punto ho avuto l'impressione che in questo paese, che nel tessuto sociale del paese, fosse ridotta la libertà che venisse attribuita, diciamo così, alla vita civile. A un certo punto, verso marzo, io ho cominciato ad avere l'impressione che soltanto il fatto di esprimere pubblicamente un punto di vista diverso da quello, diciamo così, allineato con le linee guida del governo, delle strutture sanitarie, venisse non più visto come qualcosa con cui si poteva essere in accordo o in disaccordo, ma venisse visto come qualcosa di moralmente colpevole. Io a un certo punto ho avuto l'impressione, sui social, negli articoli che scrivevo sui vari riviste, nelle interazioni con i miei colleghi universitari, e ho avuto l'impressione che ci fosse il scivolamento dal piano razionale, critico, causale, in cui si dice c'è il virus, cosa possiamo fare, ci si ammala, stiamo a casa, cioè un ragionamento di natura razionale e sanitaria, a un piano moralistico, colpevolistico. Cioè, a un certo punto, se io non la pensavo come il pensiero dominante, non ero più uno che aveva un'opinione sbagliata, ma era una persona sbagliata, era una persona colpevole, perché se fossi stata una persona seria, una persona morale, una persona che aveva cuore gli altri, non avrei avuto un'idea diversa su come gestire la quarantena. Io ho avuto l'impressione che a un certo punto in questo paese ci sia stato un scivolamento nel dibattito pubblico, dal piano, come dicevo prima, critico al piano etico. E questo scivolamento è caratteristico di tutti i momenti storici in cui c'è una riduzione della libertà, perché non si può più essere liberi nel momento in cui avere un'idea diversa vuol dire essere oggetto di una critica personale. Critica personale che quasi sempre poi si traduceva nel dibattito pubblico nella famosa fallaccia ad hominem, e tutta un'altra serie di altre fallaci che sono state utilizzate in questi giorni. Cos'è la fallaccia ad hominem? La fallaccia ad hominem è quando io voglio screditare il mio interlocutore perché non sono d'accordo con lui e invece di attaccare quello che dice io attacco lui personalmente, accusandolo di essere una persona poco seria, di essere una persona poco sensibile, o di non avere rispetto per i morti, o di non avere visto situazioni, mentre questa persona può essere con tutto rispetto una persona che ha un'opinione diversa, legittimamente. E perché è legittima avere un'opinione diversa? Perché l'opinione, e qui ritorniamo a quei discorsi che magari sembravano un po' astratti all'inizio, avere un'opinione è sempre un atto di libertà. Avere un'opinione è un atto che contiene in sé un elemento di irriducibile soggettività, di giudizio. Io do un mio giudizio e non pretendo che sia la verità, ma però pretendo che sia la mia opinione, e pretendo di vivere in un paese dove anche se ho un'opinione diversa da tutti, non dico che voi dobbiate essere d'accordo, ma mi rispettiate e non mi condagnate per avere questa opinione. In questi giorni noi abbiamo assistito, non so se l'avete seguito sui giornali, ad una circostanza pubblica che per me è stata molto grave, non tanto per il fatto in sé, ma quanto come sintomo di questo clima che perdura nel paese anche dopo la fine della quarantena. Il caso di Boccelli. Boccelli ha detto, testuali parole me lo sono segnato, io conosco tanta gente, è una persona famosa, conosce tanta gente, io conosco tanta gente, tra le persone che conosco io non c'è stato nessun caso di terapia intensiva. Quindi tutta questa gravità, puntini, puntini. Allora, quello che voglio, questa è proprio la frase di Boccelli. Allora, la prima cosa che voglio dire è che lui non è mai stato un negazionista, non ha detto il virus non esiste perché io non ho nessun amico in terapia intensiva, non ha nemmeno detto nessuno in Italia è andato in terapia intensiva, questo è ovvio, però molti giornali hanno riportato le sue parole in modo sbagliato. Lui ha detto che, ha fatto un ragionamento forse grossolano, attenzione, non difendo le parole di Boccelli, può darsi che abbia detto una cavolata, ma la cosa grave è che è stato che da quel momento in poi lui è stato pubblicamente attaccato ed è stato attaccato non sulle sue parole, è stato attaccato personalmente, è stato attaccato in tutte le maniere, anche pesantemente con Memmec dove l'hanno accusato, capite, è cieco, le hanno detto la battutaccia che le hanno fatto, ci credo che non hai visto nessuno in terapia intensiva, capite? E cose di questo tipo, tanto che lui il giorno dopo, secondo me, tiene famiglia per salvare la sua popolarità, è andato a fare le scuse in pubblico. Ma questo fatto che una persona debba fare, ripeto, lui non è un tecnico, quindi lui gli hanno chiesto la sua opinione e ha un'opinione. Cioè quello che per me è inaccettabile è un clima in cui una persona debba chiedere scusa. Questo, attenzione, è molto pericoloso, il fatto che nessuno possa esprimere il proprio parere, perché delle volte capita che il parere più stravagante in realtà contiene un elemento di verità, che non si ha il coraggio di dire, perché si sente che come si alza la voce e si apre bocca, come dice quel famoso proverbio, l'unica maniera per non cadere è imparare a strisciare. Mi sembra un cattivo esempio. Nella storia ci sono tantissimi esempi di situazioni in cui questo clima, in cui era impossibile esprimere un parere diverso dalla maggioranza, ha portato il paese in rovina. Un esempio, la guerra in Grecia, non che dovessimo vincere la guerra in Grecia, ma lo leggevo proprio ieri sera per caso, quindi scusate se faccio questo esempio, che nella guerra in Grecia più di uno aveva raccolto informazioni nella seconda guerra mondiale che non c'erano le condizioni per attaccare la Grecia, ma nessuno aveva il coraggio di esprimere un'opinione diversa. Faccio un esempio storicamente più lontano e più divertente. Voi vi ricordate la famosa frase Rosmunda, bevi nel teschio di tuo padre? Il teschio era il teschio di Cunegondo, il re dei Gepidi, che si scontra con i Longobardi. I Gepidi sono più deboli dei Longobardi, ma nessuno ha il coraggio di dirlo al re Cunegondo, perché bisogna essere tutti insieme, tutti insieme, non bisogna mai venire meno al parere quotidiano. E Cunegondo, l'aiutante di Cunegondo, vede la battaglia, Alboino contro i Gepidi, i Longobardi contro i Longobardi, e nessuno ha il coraggio di dire un'opinione diversa. Finché sappiamo come è finita, e appunto la testa di Cunegondo è finita sulla tavola di Alboino. Quindi, voi capite, è pericolosissimo questo clima. Allora, tornando a noi, ripeto, non è per difendere le parole di Bocelli, ma è per chiedersi in che paese siamo diventati nel momento in cui un cantante, oltretutto afflitto da disabilità, nel momento in cui esprime un'opinione diversa, viene oggetto di lancio di pomodori, e di quanta, in senso mediatico, tanto che lui deve abbiurare alle sue posizioni. Quindi, il motivo per cui io sono intervenuto su questi temi è che a un certo punto ho avuto l'impressione che ci sia stata una riduzione della libertà. Perché la libertà è un'opinione diversa, e perché la libertà è un'opinione diversa con la persona. perché la libertà ha a che fare con i valori. Noi non siamo dei calcolatori, vedete, io mi occupo di intelligenza artificiale. Noi non siamo dei calcolatori, non siamo dell'intelligenza artificiale. Noi, quando viviamo, decidiamo che cosa per noi ha valore. e questa scelta ha sempre un elemento di irriducibile soggettività. Ritorno al discorso di prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'esperto ci può dire se andare da A a B, e come, e quanto costerà, e quanti rischi correremo andare da A a B, ma non ci può mai dire perché andare a B. dei miei amici volano in parapendio. È sicuramente più pericoloso che andare in auto, ma loro volano in parapendio. Hanno fatto una scelta di valore. Altre persone vanno sull'Himalaya, e anche questa è una cosa rischiosa. Però, e ovviamente uno prende tutte le precauzioni del caso, io lavoro a Milano e vivo a Lavagna. Tutte le settimane vado due volte avanti e indietro da Lavagna a Milano, almeno. L'altro giorno facevo i conti, io da Lavagna a Milano credo di essere andato un paio di volte avanti e indietro dalla terra alla luna ormai, nella mia vita. Ho corso un rischio non indifferente. E allora, il problema qual è? Il problema è che un conto è la valutazione oggettiva dei fattori in gioco. Un conto è la scelta personale e politica. Allora, in questi mesi c'è stata una tendenza. E la tendenza che c'è stata, che si potrebbe identificare con un termine che io butto lì perché è chiaro, ma che è ovviamente divisivo, è una certa tendenza a una specie di totalismo sanitario. Ripeto, è un termine divisivo. Ma che cosa si intende per totalitarismo sanitario? Ecco, ne uso un altro di termine che è meno divisivo. Una specie di monopensiero scientifico. Cioè l'idea che non ci sia più spazio per la scelta libera. L'idea che tutte le decisioni debbano essere decise sulla base di un ragionamento scientifico. Come se la scienza si muovesse lungo, diciamo così, lungo una direzione unica per tutti e la scienza fosse in condizione di dirci esattamente quello che noi dobbiamo fare per gestire la nostra vita. Questo in realtà non è vero. Perché non è vero? Perché la scienza non contiene i valori. È proprio un errore di categorie. La scienza studia il meteorite che è caduto e ha distrutto i dinosauri. 70 milioni di anni fa è venuto giù e sono morti tutti i dinosauri. Per la scienza è buono o cattivo? Non è né buono né cattivo. Se cade un meteorite così oscura l'atmosfera per cento anni, per mille anni e i dinosauri muoiono. È buono o cattivo? Ma né l'uno né l'altro. Dopo i dinosauri sono venuti i mammiferi. Meno male. La scienza però, e la tecnologia, e la medicina ci mettono in condizione di realizzare i nostri valori. Ma questi valori però non ce li dà la scienza. Questi valori li dobbiamo decidere noi. Mio padre ha 85 anni. Di solito quando... È un periodo che lo cito e non so perché tutte le volte che lo cito tendo a farlo un po' più vecchio. Dopo un po' aveva quasi raggiunti i 90. Poi un giorno mi ha sentito e mi ha detto guarda che ho ancora 85 anni. Mio padre ha 85 anni e giustamente lui ha detto ma sai io non so quante anni ho ancora da vivere ma se li dovessi passare tutti in chiuso anche se avessi rischio zero io non lo so, mi prenderei qualche rischio. Magari non avrei tutti quegli anni ma quegli anni li voglio... Cioè, questo che voglio dire è che i valori quindi non possono venire da un unico pensiero. Allora il titolo di questo mio intervento qua oggi era il mito del rischio zero. Il mito del rischio zero avrebbe senso soltanto se noi vivessimo una vita a una dimensione. Se ci fosse soltanto un'unica scala su cui misurare tutta la nostra vita. Allora effettivamente potremmo dire agiamo in modo da ridurre il rischio a zero. però il rischio zero quindi presuppone una visione monodimensionale della vita. Non tiene conto del fatto che io nella vita ho tante cose ho tanti valori. Quindi il rischio zero per la salute può però aumentare il rischio per esempio che io non veda i miei cari che io non abbia una vita che io considero degna di essere vissuta che io non riesca a realizzare in considerazione la circolazione stradale. rischio zero vorrebbe dire limite di velocità zero. Cioè eliminiamo le automobili e siamo sicuri che domani in Italia non c'è più un incidente. Voi capite bene rischio zero però aumentano tantissimi altri rischi. Non arrivano più le medicine non si può più andare al mare non si prende il sole insomma tante cose non si può più andare a assistere che ha bisogno di essere assistito. Allora si dice aumentiamo il limite di velocità e quanto lo mettiamo? Ogni volta che noi aumentiamo il limite di velocità aumentano i morti in Italia. Cioè effettivamente se mettessimo il limite di velocità sull'autostrada 50 km all'ora forse il numero di morti vabbè qualche colpo di sonno ma sarebbe ancora basso lo mettiamo a 90 lo mettiamo a 100 lo mettiamo a 110 lo mettiamo a 130 adesso discutono se metterlo più in alto è un trade off cioè c'è una corrispondenza esponenziale voi capite se aumento il limite di velocità aumento il rischio però aumento anche tante cose buone e come faccio a decidere? non me lo può dire la scienza sono io che devo decidere il valore dei vari fattori in gioco quante volte magari dopo aver lavorato tutto il giorno a Milano avevo i bambini piccoli a lavagna io dicevo dormo a Milano sono le 11 di sera ho fatto 60 esami ho la testa ho visto sono uscito con i colleghi abbiamo fatto la cena sono le 11 sono un po' addormentato mi prendo un caffè io in realtà non ho mai caffè in vita mia mi prendo una Coca Cola mi prendo una Red Bull però potrei dormire a Milano ma domani mattina mi potrei svegliare con i miei figli a lavagna cosa faccio? sto a Milano rischio zero oppure prendo la macchina alle 11 di sera dopo tutto il giorno che lavoro e torno a lavagna per svegliarmi domani mattina con i miei figli voi capite c'è un po' di rischio ma io che valore do a quel rischio? io ho sempre preso la macchina e sono andato a lavagna senza esitare ovviamente sentendo se ero in sonolenza fermandomi un attimo prendendomi magari un attimo fermandomi in due autogrilli invece che uno bevendomi una lattina di Coca Cola qualcosa che mi svegliava quindi prendendo tutte le precauzioni del caso non partendo alla cieca però chi poteva valutare in quel caso lì queste sono scelte esistenziali cioè sono scelte che riguardano l'esistenza di ciascuno di noi e ciascuno di noi le prende per quanto riguarda la sua vita la politica secondo me dovrebbe esprimere dovrebbe essere l'espressione pubblica sociale di queste scelte esistenziali di tutti allora da un punto di vista nazionale e non voglio mettermi in opposizione con nessuno dei presenti ma da un punto di vista nazionale nel momento in cui è iniziata la quarantena noi ci siamo trovati di fronte ad una narrativa monodimensionale cioè sembrava che non ci fosse più nessuna scelta da prendere nessuna decisione da prendere sembrava che tutto fosse obbligato mentre noi sappiamo che non è vero perché tanti paesi hanno agito in modo diverso e hanno avuto risultati più o meno buoni quindi c'erano altre vie da prendere e in ogni caso andava anche benissimo la strada presa in Italia ma magari se fosse stata il frutto di una scelta politica se fosse stata il frutto della espressione di diciamo così per dirla più semplice ci hanno chiesto se i cittadini italiani erano d'accordo diciamo così in questa valutazione del rischio oppure no io questa cosa non l'ho sentita io a un certo punto ho sentito la macchina mediatica che ha cominciato a raccontare una narrativa in cui chi si opponeva alla linea sanitaria che ripeto magari era l'unica cosa che si dovesse fare attenzione io qua non sono un dottore non sono un virolgo non sono neanche un politico però sono un filosofo allora il filosofo che cos'è mi scuserà il dottor Grossi è il dottore del pensiero non è il dottore i medici sono i dottori dei corpi il filosofo è un dottore del pensiero cioè uno che è sensibile a come a vedere se intorno a sé il pensiero è in salute se c'è la possibilità di ragionare in maniera critica e poi non entra nel merito dell'esito dei ragionamenti però il filosofo si rende conto se il clima è positivo diciamo è fertile o meno al ragionamento e io questa impressione non l'ho avuta ripeto ho avuto l'impressione che a un certo punto siamo entrati in una narrativa obbligata è chiaro è chiaro ci sono stati molti problemi molti rischi ci sono state molte situazioni difficili e molti possono dire che questo discorso che io vi sto facendo è sostanzialmente insensibile di fronte ai casi gravissimi i casi gravi che ci sono stati le persone che hanno sofferto le persone che si sono ammalate e che di fronte a loro ogni altra considerazione andava va messa in secondo piano ecco io anche da questo punto di vista però ho i miei dubbi perché ho i miei dubbi ho i miei dubbi perché noi dovremmo dimostrare dovremmo dimostrare che da un lato la strada che si è seguita è l'ultima che si poteva seguire e secondariamente che a me interessa di più dobbiamo prendere in esame gli effetti che ha avuto la quarantena sulla nostra società allora il primo effetto ne ho già citati due il primo è quello di questa colpevolizzazione del dissenso il secondo è quello del monopensiero il monopensiero aggiungo qualche cosa è pericoloso soprattutto nel caso dell'utilizzo strumentale e da questo punto di vista ci tornerò dell'uso strumentale del parere delle commissioni scientifiche perché? perché l'utilizzo strumentale delle commissioni scientifiche è qualcosa che si è sempre visto in tutti i regimi che volevano ridurre la libertà del cittadino senza prendersi la responsabilità di farlo perché? perché la commissione scientifica dopo un po' ha lo stesso ruolo della ruspice cioè il re prima di fare la guerra al vicino chiedeva alla ruspice di leggere nell'interiore degli animali per dire se gli dèi volevano o non volevano che si procedesse a fare la guerra ai vicini oggi questa cosa non si fa più però si chiede alla commissione scientifica un parere e quasi sempre il parere della commissione scientifica appunto come il parere della ruspice è quello che va bene per il potere pubblico il potere che in questo momento esercita il diritto di decisione il potere di decisione e questo spesso non è fatto in cattiva fede però voi capite una cosa è lo scienziato che lavora liberamente e che non ha interessi politici personali o di altro tipo un'altra cosa è la commissione perché chi sceglie i membri di una commissione scientifica il potere politico e quindi qui c'è una circolarità perché ovviamente essere parte di una commissione dà un ruolo e quindi il potere è inevitabile che scelga quelle persone anche ripeto non sto dicendo che sono cose che sono state fatte in cattiva fede anche se stranamente oggi hanno secretato ancora per un mese gli atti della gestione pubblica quindi a pensare male ci si azzecca ma voglio dire perché secretarli io non vedo nessun motivo concreto per mettere sotto per non rendere accessibili gli atti pubblici con cui si è gestita l'emergenza all'inizio ma ripeto la commissione scientifica non è la comunità scientifica la commissione in italiano tra l'altro si assomigliano le due parole commissione comunità scientifica non è così la comunità scientifica è fatta da tantissimi ricercatori che hanno opinioni diverse che cercano di capire come agire la commissione invece è una selezione di ricercatori che viene selezionata e scelta per esprimere un parere che poi viene utilizzato dal sistema politico quindi ancora una volta qui noi ci troviamo di fronte in una situazione difficile ci troviamo di fronte ad uno scontro tra il potere tra la gestione del potere e l'esistenza dei cittadini l'esistenza dei cittadini che si deve esercitare nel senso di dare la possibilità a tutti i cittadini di esistere liberamente di dare manifestazione alla loro libertà quello che citavo all'inizio che cosa è la libertà la libertà è l'esercizio della proprietà della propria esistenza cioè dire io esisto non voglio fare male a nessuno ma devo poter esercitare la mia la proprietà su ciò che io sono nessun altro può farlo io posso decidere di far parte di una comunità e a quel punto io posso seguire le regole di quella comunità ma è un atto libero che io faccio è come quando uno gioca a scacchi o qualsiasi altro gioco uno segue le regole e le rispetta ma non gli possono cambiare quelle regole mentre sta giocando non ci può essere qualcuno che ha il potere di cambiare quelle regole e quelle regole devono essere quelle che uno trova nella carta costituzionale del paese e in questi giorni per esempio ho avuto modo di parlare con Sabino Cassese qualche giorno fa che è un illustre costituzionalista ci sono stati parecchi dubbi circa la legittimità costituzionale della stato di emergenza prolungato oltre ogni buon senso noi siamo lo stato nel mondo credo che ha avuto lo stato di emergenza più lungo e lo abbiamo prolungato ulteriormente senza che ci siano evidenze sanitarie in questo momento per giustificare lo stato di emergenza e questa cosa è stata citata io qua entro ancora nel mondo dei filosofi è stata in qualche maniera messa diciamo così in discussione da un filosofo italiano molto famoso Giorgio Agamben non so se lo conoscete comunque molto famoso che proprio già a marzo diceva attenti con questa cosa dello stato di emergenza perché lo stato di emergenza deve uno corrispondere a un periodo di tempo limitato e due è la scusa per mettere in discussione che cosa? per mettere in discussione lo stato di diritto e lo stato di diritto è quello in cui la nostra libertà è un diritto io mi ricordo mentre correvo nei miei 200 metri concessi dalle normative di qualche mese fa quando mi si è palesato correndo ma è un'ovvietà il fatto che la libertà in uno stato di diritto deve essere vista come un diritto non come un permesso mentre noi durante la quarantena piano piano siamo stati abituati a essere trattati come se la condizione normale sia quella in cui noi non siamo dotati di libertà ma ogni tanto se tutto va bene se non ci sono pericoli se non piove se non c'è lo stato d'allerta in quel caso bontà sua il potere ci dà ci concede il permesso per un po' vi lascio liberi fino alle 5 però mi raccomando tornate a casa presto senza fare disastri cioè sostanzialmente di fronte ad una situazione di pericolo la narrativa che ci è stata raccontata è che noi non siamo in grado di gestirla responsabilmente e questa è stata un'altra cosa che mi ha fatto sentire che la libertà in questo paese si è ridotta il momento in cui la narrativa dominante era quella che il singolo cittadino non è degno di fiducia deve essere messo sotto tutela cioè il cittadino fino a prova contraria è colpevole e quindi va ridotto nella sua libertà va ridotto nella sua autodeterminazione perché è fino a prova contraria appunto qualcuno che non si comporta male allora questo ci riporta qualcosa che mi ha dato molto da riflettere cioè la relazione su tre parole chiave che detto così sembra pane amore tre parole chiave che sono libertà fiducia e responsabilità quando io ho a che fare con i miei genitori o con qualcuno della mia famiglia o anche con qualcuno del mio paese io ho fiducia di lui io lascio la macchina aperta ad Albaretto perché ho fiducia quelli di Albaretto li conosco tutti e se uno di Albaretto viene a casa mia io ho fiducia che se lui il giorno prima avesse avuto la febbre me lo direbbe o avesse avuto il dubbio di aver avuto il virus o comunque avesse degli elementi che anche a volte non si ha la possibilità bisogna rifarci le autorità sanitarie però se aveva il minimo dubbio lui me lo direbbe o comunque non verrebbe da me o magari per un po' non verrebbe da me se pensa che non verrebbe nemmeno a trovarmi a casa nel dubbio quindi senza elementi ma soltanto nel dubbio ma io ho fiducia così come ho fiducia che se esco a Albaretto non mi ammazzano quindi non ho bisogno di mettere in atto dei comportamenti coercitivi che riducono la libertà delle persone che mi circondano di cui ho fiducia perché io ho fiducia in loro così come penso che loro siano in grado siano responsabili siano in grado di assumere quei comportamenti che il caso rende utili e indispensabili e questo secondo me è quello che dovrebbe essere una società civile cioè fino a prova contraria i cittadini dovrebbero essere considerati degni di fiducia perché è considerati in grado di comportarsi responsabilmente se questo viene meno noi cadiamo in uno stato di polizia viene meno lo stato di diritto e questa cosa ahimè è avvenuta io parlo sempre per la Liguria è avvenuta durante tutto il periodo della quarantena ed è avvenuta con un atteggiamento che ha piano piano trasferito il nemico esterno il virus sul nemico interno la persona io ho proprio vissuto giorno dopo giorno l'abbiamo anche seguito la cosa è avvenuta anche a livello nazionale prima i colpevoli erano i lombardi poi erano i ragazzi che facevano la movida i primi cinesi i primi cinesi è vero i primissimi cinesi i primissimi la bella docet la bella docet esatto l'abbraccio cinese esatto l'abbraccio quello straordinario poi dopo sì 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 assolutamente quindi abbiamo avuto i primi cinesi poi i lombardi poi i piemontesi poi quelli che stavano più a nord poi a un certo punto i meridionali poverete anche loro ci sono presi la loro carica perché erano quelli che avevano preso il treno per andare a trovare i genitori invece secondo la narrativa loro sarebbero dovuti rimanere a Milano senza una fonte di sostentamento senza uno stipendio per mesi e mesi per tutta la quarantena chiedo chi poteva pensare che una persona del sud che lavora a Milano sulle spese nei momenti in cui gli dicono che il paese lo chiudono per 4 mesi che non ha più lo stipendio deve restare a Milano a morire vuol dire sì poi si può fare tutto però quindi quello che è successo c'è stato nella narrativa pubblica spostare il pericolo dal virus alle persone mettendoci uno contro l'altro e questa cosa qui ancora una volta è caratteristica di quei momenti in cui si riduce la libertà perché si riduce la libertà? perché io faccio diventare il mio vicino o il mio quasi vicino un nemico a cui deve essere ridotta la libertà perché con i nemici cosa si fa? si mettono in condizione di non nuocere è un nemico e quindi c'è stata tutta una serie di meccanismi e qui uso una parola forte che hanno portato a quello che Umberto Eco nel 1995 in un articolo breve che è scritto per New York Review of Books ha chiamato il fascismo eterno che non è il fascismo con i pantaloni alla zuava della guerra di Libia o della guerra di il fascismo della guerra in Grecia non è il fascismo storico ma è un atteggiamento umano è un atteggiamento a un profilo psicologico che ha una serie di caratteristiche ora queste caratteristiche che cita Umberto Eco me le sono scritte perché sono 14 non ve le cito tutte quindi Umberto Eco a un certo punto fa l'elenco del profilo psicologico ripeto non del fascismo politico non del fascismo storico non sto parlando di quello ma del profilo psicologico sociale che è in qualche maniera prodromico che è diciamo così fertile e poi ha delle forme di regime che mettono in discussione la realtà allora di questi 14 criteri di Umberto Eco non abbiate paura non ve li elenco tutti soltanto uno non si è manifestato durante la quarantena cioè il culto della tradizione tutti gli altri l'irrazionalismo il disagreement astrie purtroppo l'ho letto in inglese quindi ce l'ho in inglese quindi diciamo la colpevolizzazione del dissenso questa cosa che abbiamo visto successa per esempio con Bocelli o con altre persone la paura del diverso il trasferimento del nemico dal nemico esterno a un nemico interno voi ricordate fascista ma è la parola disfattista tu qualsiasi cosa dicevi contro il governo eri un disfattista mi ricordo l'ho cercata ma non l'ho trovata in quale film me lo ricordo benissimo come se fosse ieri un film di Totò dove Totò appunto metteva in ridere il regime e tutte le volte che qualcuno diceva qualcosa Totò gli diceva ah tu sei un disfattista e quello diceva no ma guarda che è finita la legna non abbiamo più da scaldarci ah sei un disfattista oggi non abbiamo più la parola disfattista però abbiamo la parola negazionista quando uno dice qualcosa ripeto come è successo nel caso di Bocelli che l'ho preso solo perché è successo ieri immediatamente viene accusato di negazionismo anche se magari non ha mai negato il virus la frustrazione sociale il disprezzo per il debole abbiamo disprezzato i cinesi la xenofobia abbiamo disprezzato quel del sud perché erano deboli sono andati a casa loro la guerra permanente vi ricordate la narrazione subito come è stata raccontata i dottori sono degli eroi la gente sul divano entra in cea e ancora adesso mai abbassare la guardia mai abbassare la guardia non sia mai l'appartenenza il fare le cose perché le fanno tutti a un certo punto durante la quarantena c'era questo criterio che la gente diceva se tutti fanno una cosa la devi fare anche te chi sei tu per fare una cosa diversa dagli altri se tutti e noi sappiamo che certe leggi certi di PCM non sono stati proprio scritti da 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 Newton certi di PCM erano quando ci chiedeva a marito e moglie se escono in macchina uno sta davanti uno sta di dietro io mi chiedo quale fosse la logica quando hanno fatto la multa quello che era andato con la multa subacque le bombole Santa Margherita Ligure per polpi è uscito dall'acqua e le hanno fatto la multa io oggettivamente mi chiedo quanti polpi abbiano preso a parte che lui la mascherina ce l'aveva perché più che la bombola è respirare dalle bombole non si può si va bene insomma questo era esatto esatto il disfattismo del nemico interno quindi non entro nell'enco però vi dico che se uno prende la diagnosi i sintomi vedete anche lì Umberto Eco fa proprio l'esercizio del dottore del pensiero cioè Umberto Eco dice io vado a vedere quali sono i sintomi che poi possono storicamente nelle giuste condizioni non necessariamente nessuno dice che necessariamente ma possono nelle giuste condizioni dare luogo ad una malattia della società come appunto il fascismo il fascismo Umberto Eco dice una malattia della società che però è preceduta da una malattia dell'atteggiamento personale e Umberto Eco ripeto fa questo elenco di questi 14 casi e questi 14 casi se uno va a vedere la situazione che si è manifestata durante la quarantena ripeto non dal punto di vista sanitario io non parlo del punto di vista sanitario io parlo dal punto di vista politico sociale di questi 14 punti 13 si sono manifestati con grandissima chiarezza allora io cosa voglio dire voglio dire e mi arrivo alla conclusione insomma poi sono ben contento di ricevere obiezioni commenti e quant'altro perché quello che voglio dire è che di fronte a certi principi fondamentali lo Stato non può metterli in discussione di fronte per esempio lo Stato non importa quanto è grave la situazione che deve affrontare immaginiamo che lo Stato abbia a che fare con dei terroristi voi potreste giustificare se lo Stato per superare una situazione in cui ha a che fare con dei terroristi se lo Stato facesse uso della tortura io direi di no lo Stato italiano non potremmo accettare che faccia uso della tortura anche se magari in questo momento noi siamo esposti ad un pericolo terrorista lo Stato deve fare tutto ma non può usare la tortura perché non può farlo perché i valori su cui si fonda lo Stato questi valori sono i valori che costituiscono l'essenza dello Stato cioè se vengono meno lo Stato non c'è più allora noi ci dobbiamo interrogare se in questo momento di fronte al pericolo della pandemia che era un pericolo reale un pericolo gravissimo noi ci dobbiamo interrogare se le misure prese dallo Stato o il modo in cui queste misure sono state prese o se la modalità in cui il nostro diciamo così da un lato la narrazione mediatica dall'altro la società ha affrontato questo pericolo non abbia messo in discussione alcuni tra i principi fondamentali inviolabili su cui si regge la nostra società e qui chiudo il cerchio io credo che uno dei e ritorno al motivo quindi la parte un po' più astratta ma sarò breve io credo che uno dei motivi per cui si è fatto per cui si sono messi in discussione alcuni principi fondamentali della nostra società sia proprio questa riduzione della persona al suo corpo che poi si lega in maniera concreta quindi lascio subito perdere queste cose più astratte che a me piacciono molto si lega al discorso della biosicurezza e del biocontrollo cioè all'idea che piano piano noi non siamo i padroni della nostra esistenza ma il vero padrone della nostra esistenza è il nostro corpo e lo Stato da questo punto di vista diventa il gestore dei corpi lo Stato adesso non sto parlando di Italia adesso faccio un discorso più ampio un discorso che non faccio solo io che fa per esempio lo storico qualcuno di voi l'avrà letto è stato uno dei best seller degli ultimi 3-4 anni Yuval Harari che ha scritto Modeus che ha scritto 21 lezioni per il XXI secolo e altri libri molto famosi lui dice guardate che sta avvenendo un fenomeno strano per cui l'esistenza delle persone sta pian pianino venendo sottratta alle persone stesse perché attraverso una serie di strumenti tra cui l'intelligenza artificiale il biocontrollo il biochip e altre cose il potere diventa il difensore ma anche il controllore non delle persone ma dei corpi controllando i corpi si controlla la vita delle persone è il motivo per cui per esempio noi non possiamo Dio non voglia toglierci la vita perché perché non siamo proprietari del nostro corpo secondo la legislatura noi non possiamo gestire vedete quel discorso che sembrava astratto che la libertà è l'esercizio della proprietà dell'esistenza se io sono il proprietario di questi occhiali posso buttare per terra e distruggere sì voi dite hai distrutto un paio d'occhiali ma sono perfettamente nel mio diritto di farlo e posso esercitare questo diritto allora nel momento in cui il modello antropologico nel modello in cui nel momento in cui il modello con cui noi ci vediamo nel momento in cui noi ci vediamo come dei corpi ecco che non siamo più padroni della nostra esistenza ecco che le neuroscienze possono venire e dire guarda io ti metto le lettere e ti dico se sei veramente innamorato oppure no e ti dico se tu vuoi veramente questa cosa oppure no voi potete essere diciamo così scettici ma guardate che lo fanno è una delle cose che si cominciano a fare possiamo dire tu non sai veramente quello che vuoi voi sapete oggi nelle neuroscienze c'è una parte consistente di persone che lavorano su questo che lavorano sul tentativo di sapere che cosa una persona veramente vuole a prescindere da quello che questa persona dice di volere e questo ovviamente voi immaginate al punto di vista delle elezioni del potere politico del marketing dell'acquisto delle cose quante applicazioni ha per cui la gente vogliono mettere il chip per dire sappiamo quando tu veramente vorrai comprare una cosa a prescindere da quello che tu pensi di volere vi faccio un esempio concreto per rendere la cosa supponiamo che io mi ubriachi e sotto l'effetto dello stato di ebrezza dica sono triste appunto faccio l'esempio di prima scusatemi se l'esempio non è particolarmente allegro ma ci fa capire mi voglio togliere la vita voi mi fermereste subito perché direste non sei in te e in quel caso avreste ragione però questa cosa del non sei in te sta diventando applicata non solo ai casi in cui uno si ubriaca o appena stato lasciato dalla fidanzata e ha deciso di farla finita come Romeo è una cosa che pian pianino viene applicata a tutti i momenti della vita quotidiana nel momento in cui tu non ti comporti più conformemente a quello che il sistema decide che è la cosa che tu dovresti volere tu non vuoi essere magro ma come? non vuoi essere magro essere magro è la cosa giusta tu non vuoi diciamo così evitare di correre i rischi e quindi tu ti vuoi esporre i rischi vuol dire che non sei in te perché lo Stato sa effettivamente che cos'è il tuo bene lo Stato diventa uno Stato etico e perché diventa uno Stato etico oggi lo Stato perché si appoggia sulla narrazione della scienza si appoggia sulla narrazione del comitato scientifico che ti dice guarda noi sappiamo meglio di te che cos'è il tuo bene e perché lo sa il comitato scientifico meglio di te e c'è una giustificazione filosofica e qua entra in gioco il filosofo giustificazione filosofica è che lo scienziato dice tu sei il tuo corpo e io conosco il tuo corpo meglio di te io non so cioè tu non sai se sei ammalato io lo so perché ti guardo dentro con la tac tu non sai se stai veramente bene io lo so perché ti faccio l'esame del sangue quindi io so più di te che cosa tu sei ma tutto questo però si regge su un inghippo su un errore filosofico poi magari non è un errore però perlomeno va esplicitato e cioè la equivoco tra me e il mio corpo cioè effettivamente se non fosse altro che il mio corpo avrebbe ragione lo scienziato il medico perché lui studia il corpo e lui sa del corpo effettivamente più della persona che lo porta in giro quel corpo e quindi giustamente io non sono più proprietario della mia esistenza perché io sono un ospite del mio corpo sostanzialmente se lo gestisco bene ok me lo lasciate gestire altrimenti lo Stato interviene e impone delle leggi coercitive per evitare che io metta in pericolo il mio corpo ma se io però non sono il mio corpo allora divento il proprietario del mio corpo e divento il proprietario della mia esistenza e dico Stato io voglio poter esercitare il mio diritto sulla proprietà della mia esistenza e ovviamente per far parte di una comunità io accetto le regole dello Stato io mi sono sempre messo la mascherina ho seguito tutte le regole durante la 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 quarantena non ho mai infranto nessuna regola ma per esempio ho sempre esercitato il diritto di mettere in discussione queste regole di discutere su queste regole perché fino a prova contraria non siamo sudditi ma siamo cittadini e quindi abbiamo il diritto di o dovremmo avere il diritto di poter rivendicare la nostra opinione ed esprimere la nostra opinione allora per concludere questa questa lunga spero non troppo lunga analisi di quello che c'è successo fino alla pandemia io non sentivo forse per ingenuità non sentivo limiti alla mia esistenza civile nella pandemia a un certo punto ho cominciato a sentire che l'atteggiamento sociale l'atteggiamento culturale era diventato intollerante nei confronti della diversità e allora vorrei concludere con una citazione che a me è sempre piaciuta molto una citazione di Spinoza dove Spinoza ci dice che la libertà delle persone è l'esperienza dell'eternità nell'esercizio di una scelta che cosa voleva dire Spinoza Spinoza è sempre complicatissimo cosa voleva dire Spinoza Spinoza voleva dire che la nostra esistenza fatta dalle nostre scelte e le nostre scelte sono un'esperienza di eternità perché nella scelta noi scegliamo in maniera irriducibilmente soggettiva un valore e il valore è eterno cioè quando noi esercitiamo quando noi esprimiamo la nostra capacità di persone noi facciamo nostra l'eternità che non è l'immortalità l'immortalità è l'immortalità dell'ameba l'ameba che continua a riprodursi ed eternamente si riprodurrà come corpo l'eternità invece è quella di Rome e Giulietta è quella di Enrico V è quella della persona che compie un atto suo personale di scelta irriducibile che non ha nessuna causa necessaria che va fuori la logica della scienza che va fuori il meccanismo deterministico delle cose ma che esercita in un atto di libera scelta l'eternità propria degli esseri umani diceva Picco della Mirandola non siamo né corpo né spirito non siamo né animale né angelo non siamo né demone né Dio ma abbiamo la capacità di essere tutte queste cose nel momento in cui esercitiamo la nostra libertà allora questo è un po' astratto questo mi può sembrare un po' campato per aree però ecco nel momento in cui gli spazi per l'esercizio della libertà e per l'espressione della nostra opinione si sono ristretti ecco in quel momento io ho sentito che bisognava rivendicare questi valori fondamentali e bisogna interrogarsi se per effetto della paura guardate che noi davanti secondo me abbiamo un periodo ancora più difficile perché dopo l'onda della pandemia dopo il pericolo sanitario rischiamo di andare verso un pericolo economico sociale Dio non voglia arriveranno i fantastiliardi dalla Unione Europea arriveranno a salvarsi speriamo di sì però potremmo anche andare in corso ad un serie di pericoli allora di fronte a questi pericoli quelli che ci possono salvare dalle derive cui faceva riferimento Umberto Eco Agambeno altri filosofi sono i valori e i valori non hanno mai una giustificazione razionale non si trovano mai in un testo di scienza in un testo di medicina i valori sono sempre una scommessa una scommessa che si regge sulla nostra fiducia di poter essere cittadini responsabili e di avere intorno altre persone cittadini responsabili è un po' come quando si sceglie un partner non abbiamo nessuna garanzia che questo partner poi sia effettivamente la persona che speriamo che sia però in quel momento noi facciamo un atto di fiducia e la forza della nostra azione sta tutta nella nostra capacità di farci carico di questo momento di fiducia nel futuro e negli altri e la società deve lasciare che questa fiducia venga riconosciuta e apprezzata se la società si costruisce in modo da presupporre che questa fiducia non ci sia per me la società si è ammalata e come dicevo prima il filosofo diventa sensibile a questa malattia del pensiero della società io mi fermerai qua grazie 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 grazie